entriamo in cronaca proprio quando inizia il secondo tempo soliti idioti in vantaggio per tre reti a due quindi un secondo tempo tutto da vivere per i ragazzi di Paolo Grillo che tenteranno di asciuffare questo pareggio proprio la palla per Paolo Grillo attenzione però forse sbaglia un po' il tocco e gioca con il fuoco davvero lì in difesa per giocare questo pallone ricorda un po' il Bari di Ventura ancora palla dietro non riescono davvero a liberarsi allora approfitta Portola da dentro per Mevo non ci arriva per un soffio può rinviare allora il portiere la palla non arriva Giordano per il buon intervento di testa di La Barbera ancora da dietro dal Capitan Grillo si appoggia sulla fascia sinistra prova il tiro però davvero il fratello di Carmine il Capitano Torri Lecci Capitano lo vediamo lì in fondo ancora ai pit stop per un infortunio intanto in campo c'è Mevo prova un numero non ci arriva perdono 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 Grazie.